Nel nostro caso abbiamo perso nelle prime due settimane, dal 18 maggio, l'80% e abbiamo perso nelle due settimane dopo, cioè la terza alla quarta, il 65% del fatturato. Noi abbiamo chiesto il prestito dei 25.000 euro e abbiamo chiesto, è stato veloce, tre giorni ho avuto i soldi in conto. Io cosa farei? Continuerei col credito di imposta sugli affitti, a meno fin quando il fatturato non ha raggiunto, non so, il 65-70%. L'IVA, anche su l'IVA io farei qualcosa. Abbiamo un discorso, stiamo discutendo in questi giorni, perché l'IVA potrebbe essere, ritoccare l'IVA, passarla un po' con il fatto di ragione, potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi, per il carino anche di fiducia.